La scuola di Cassano Cassano che allarga ancora a cercare Sedorf Se la cava Zamboni Comunque vedremo tanti cambi di gioco Perché con un centrocampo a tre è facile cambiare gioco Dentro il pallone di Epata Ancora per Robinho che allunga per Flaminia E' pronta al traversone Poi all'indietro ancora per Robinho Fuori per Abate fa scorrere Sedorf E la tiene lì Arcani Prova ad andare via Cassano Due dribbling Cassano ancora in avere rigore Cassano all'indietro per Robinho E' un inizio super Quello di Antonio Cassano Cassano alza la testa Riesce a trovare un compagno libero Poi lo trova invece in Boateng Sedorf Sul fondo Ma il Milan Falleggia bene All'inizio dell'area di rigore Sedorf ancora per Cassano 1-2 Chiesto Ha ottenuto Cassano Contrato all'ultimo momento Però forse è stato lui l'ultimo a toccare Ma non c'è fallo Secondo l'antico Sul pallone morbido Arriva Ider 1-1 Diedere Badire D'area di rigore Abbiati lo specca lì Buona azione Robinho Con Arcari che si salva Bello scambio Robinho Cassano Cambia gioco Cassano Per Boateng Che la mette giù Si fa vedere Flamini in mezzo Attraversione Boateng Cassano Alto sopra la traversa Esiste ancora Zebina Buono Il suggerimento interno Per Bassi Nero di rigore Bass per Eder Che si libera Eder Palla Gol per il Brescia Ecco la Bade Che fa via Molto bene A Bade Grande accelerazione Uno slalom Il cross Non riesce a toccare Poateng E poi Sedorf Doppio passo Sedorf ancora La metta all'indietro E se la divora Cassano Ed è mai Cerca primo Pallo Caracciolo Se la trova in mano Abbiati Grande anticipo Trovato da Andrea Caracciolo E Abbiati Se l'è trovata in mano Inserimento senza palla Di Robinho Che era interessante L'avete visto Al centro dell'area di rigore Boateng Fa girare per Robinho Sinistro Alcari In calcio d'angolo Paiocco C'è Zambelli Che accompagna a destra Paiocco vuole il destro Colpisce bene Abbiati controllato Palloni sul fondo Non c'è calcio d'angolo Grandi blocchi Ti avanti la traversa E poi la palla Che si è praticamente Fermata in mezzo Dalla porta Tiago Silva Si fa prendere In contropiede Brescia In maniera glamorosa Cassano 1-1 Arrivano la parte Opposta Robinho 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 1-0 Nel momento più difficile Il Milan in contropiede Con Cassano Robinho Adesso Bambom All'indietro Jonatas che ci prova Poi subentra ancora Diamanti Stop a destra Abbiati Avete già iniziato A rispondere in tanti Allora vi chiediamo È davvero la squadra Più forte Il Milan Adesso è